Musica Augurato di una buona serata e benvenuti a questa nuova puntata di Telegram Stasera torniamo sul tema politico e parliamo però da un punto di vista chiave Che ha segnato sostanzialmente le primarie del Partito Democratico Ma che di fatto è un trend che segna tutta la politica nazionale, nostra, italiana e internazionale Stiamo parlando dell'affiliazione dei giovani alla politica È un tema di rimente, in qualche modo lo si è visto anche nelle scorse tornate elettorali Anche fuori dal nostro paese Perché la disaffezione dei giovani nei confronti della politica è molto alta E lo si è chiarito anche in queste primarie Evidentemente quindi anche il Partito Democratico risente di questa cosa E noi ne parleremo con due rappresentanti di due partiti opposti Che si contendono, diciamo, ovviamente si contenderanno alle elezioni del 2018 Ma sono entrambi molto giovani Marco Piarini del Partito Democratico, buonasera Grazie, buonasera E buonasera a Federico Bussolino della Lega Nord, buonasera Grazie, buonasera Allora, come detto, insomma, partiamo dal dato delle primarie del Partito Democratico Ma lo facciamo mettendoli in relazione anche a quelli che sono stati due voti esemplari Di cui uno è quello della Brexit in Inghilterra L'altro è stato quello il primo turno delle elezioni francesi Ci sarà poi il secondo turno, vedremo come andrà questa domenica Ma intanto, insomma, già lo screening in qualche modo è stato esemplare Lo vediamo nel servizio C'è un tema trasversale che riguarda la politica oggi E che attraversa partiti e movimenti di tutto l'Occidente Lo scarsissimo interesse dei giovani alla Repubblica e all'impegno civile Per restare nella nostra Europa lo si è visto plasticamente nel voto sulla Brexit Dove i giovani hanno scelto compattamente per il Remain Soltanto che lo ha fatto il 36% di loro contro l'83% degli over 65 Nel primo turno delle elezioni francesi, invece, la fascia 18-24 anni È stata quella che ha registrato l'astenzione più alta Con un giovane su tre che ha deciso di non votare Per venire al nostro paese le cose non migliorano Guardando l'esito delle ultime primarie del Partito Democratico Che comunque, di fronte a 2 milioni di votanti Offrono uno screening parziale, ma importante, sul popolo della sinistra in Italia Un popolo che va invecchiando Alla flessione di partecipazione registrata un po' ovunque in Italia Soprattutto nelle regioni rosse, si aggiunge il dato dell'età Il 42% dei votanti ha 65 anni o più E un ulteriore 21% supera i 55 anni Alle primarie del 2013, gli ultra 65 anni erano stati il 29% 13 punti in meno A fornire i numeri un'indagine condotta da CLS Ripresa da Ilvo Diamante su Repubblica Che chiarisce anche l'estrazione sociale e la classe di riferimento dei votanti A scegliere il PD oggi sono soprattutto i pensionati Ma anche i laureati, ma questi ultimi soltanto nelle fasce d'età più avanzate Diamante afferma dunque che le recenti primarie Hanno rilevato un problema nel PD Il rischio di trasformarsi in un partito più debole Che sta invecchiando in fretta Alla base di questa disaffezione Un diffuso disincanto nei confronti delle istituzioni E il sempre più difficile riconoscimento dell'autorità in generale Sia tra i professionisti, medici, insegnanti eccetera Che tra i politici Un trend che a sua volta è riconducibile ad una generazione Che oggi ha scarse possibilità di affermazione lavorativa e sociale E che vive ai margini della società cosiddetta pensante Da qui la differenza con gli altri partiti E soprattutto quelli più radicali Che, come nel caso di Lega e Movimento 5 Stelle Ma in Francia sono i comunisti di Melanchon Intercettano il malcontento giovanile Veicolandolo attraverso la protesta Ne consegue una riflessione chiara e decisa Che la nuova dirigenza del PD dovrà mettere in campo E che in parte è già avviata Non è un caso che Renzi abbia proposto Il cosiddetto lavoro di cittadinanza Ma anche i bonus culturali per i 18 anni E l'impegno a portare la discussione interna al PD Sui social network Attraverso strategie mirate e risposte concrete Ai bisogni di un'intera generazione Partiamo proprio da qui E partiamo proprio da Marco Pierini Per capire Insomma, non è che alla fine la rottamazione di Renzi Di essere quella dei giovani Che non votano più il Partito Democratico Che non si sentono in qualche modo rappresentati dal Partito Democratico Allora, innanzitutto grazie Non credo sia così Non credo sia così anche perché Diciamo che quando il Partito Democratico È riuscito ad intercettare Il voto giovanile in larghissima maggioranza È stato solamente a guida Matteo Renzi Quindi credo che veramente Le potenzialità per poter fare Un grande lavoro sui giovani E soprattutto per rendere l'offerta politica del PD Appetibile all'elettorato giovanile Lo possa fare soltanto questo PD A guida Matteo Renzi Certo è che noi Diciamo come ragazzi che si impegnano Ma anche in generale Come persone che fanno politica Anche nel Partito Democratico Dobbiamo un po' interrogarci Su quelli che sono i dati I dati del voto giovanile Con noi intendo innanzitutto Oltre agli organismi Diciamo giovanili del partito A tutto il Partito Democratico Ecco, credo che però Da questo punto di vista Benissimo L'investimento sulle campagne Sui social Eccetera eccetera Sono tutte cose Che vanno nella giusta direzione Ma credo che centrale sia Quello che noi Diciamo e offriamo Come prospettiva ai ragazzi Ecco, in questo senso Credo che la mozione Renzi Veramente facesse la differenza E proponesse Come è stato detto anche nel servizio Un contributo Per esempio Diciamo di Un cuneo di decontribuzione Quindi meno tasse In maniera strutturale Per i giovani Nel mercato del lavoro In quanto giovani Questa mi sembra Una proposta Che parla veramente A quelli che sono I problemi seri Del settore giovanile in Italia Diciamo che La polemica La protesta Sono appetibili Sul breve periodo Ma poi alla fine Si scontrano Con l'evidenza delle cose Ora, tra l'altro Ritiveremo insomma Quali possono essere Anche i meccanismi Per riavvicinare I giovani alla politica Che però è un dato di fatto Parleremo anche Dei social network Che secondo me Non è secondario Perché insomma Il Movimento 5 Stelle Lì ha un bacino D'utenza molto forte Evidentemente È un spettro Anche di quanto Il popolo giovanile Si muova in quella direzione Visto il Movimento 5 Stelle Insomma Annovera diversi giovani Tra le proprie file Volevo capire Come sta invece Come sta la base giovanile Della Lega Nord Come si muove Come siate strutturate Anche perché insomma Dalle primarie Noi si parla delle primarie Perché ci sono dei numeri Tutto chiaro Tutto raccontato Attraverso i giornali Forse Della Lega Le si raccontano meno Se ne parla meno E quindi Per questo Dio chiediamo Dunque Per quanto riguarda Le primarie della Lega Il Movimento giovanile A parte essere Quindi molto saldo E presente Dall'Alto Adige All'Umbria Al momento Non ha preso Una posizione ufficiale Quindi Alle primarie Della Lega Nord Troviamo da una parte Il segretario uscente Matteo Salvini E dalla controparte Invece L'assessore all'agricoltura Della regione Lombardia Gianni Fava E si scontreranno ora a maggio Tra l'altro Si scontreranno ora a maggio 25 maggio La curiosità Secondo me Risiede proprio Nella proposta politica Che fanno entrambi Quindi da un lato Noi abbiamo Matteo Salvini Con un'ottica A mio avviso Per il futuro Molto più sovranista E dall'altra parte Invece Gianni Fava Che richiama l'attenzione Vici temi Che facevano parte Quindi della nostra azione politica Dagli anni 90 Ai primi Del 2000 Quindi parlo Da questione meridionale E parlo Prima il nord E chi vuole Magari secessione Chi vuole autonomia Chi vuole federalismo Un ritorno alle origini Diciamo In qualche modo Un ritorno alle origini Anche se Il candidato Gianni Fava Ho sentito Che non lo chiama In tal senso Semplicemente Dice che certe tematiche Al giorno d'oggi Sono più attuali Che mai Da canto nostro Cosa possiamo fare Abbiamo innanzitutto Scelto di non Schierarci apertamente All'inizio Di questa campagna Possiamo dire Di raccolta film Che poi Professionista Diciamo In qualche modo Porta O che ha La sua È chiaro È una parentesi Poi sono anche Dell'idea Magari che La problematica Tra i giovani La relazione Tra i giovani E il voto Credo Penso Non è un giudizio Ma è probabile Che riguardi Più nello specifico Il partito democratico Perché io penso Allora Il referendum Costituzionale Una larga fetta Dei giovani Si è espresso In modo contrario A questa proposta Politica Perché questo Pedini Allora Sì Innanzitutto Perché E questo Credo Che anche Le analisi Del post voto E dei flussi elettorali Ce lo dicano Sul voto Referendario È contato Moltissimo Non soltanto Diciamo L'estrazione Quindi anche Anagrafica Ma è contato Molto L'appartenenza Politica Che non è da Sottovalutare Affatto Nella scelta Degli elettori Perché ancora Evidentemente C'è un richiamo Forte Per alcune Fasce Di elettorato Da parte Dei partiti Che hanno Tradizionalmente votato O comunque Da cui si sentono Rappresentati E quindi In questo senso È naturale Che se momentaneamente Il Movimento 5 Stelle O la Lega Nord Intercettano Una certa fetta Di elettorato Possono avere Un richiamo maggiore È un riflesso Anche sul referendum È un riflesso Anche sul referendum Il referendum In realtà E questo è stato Senz'altro Un nostro Un nostro errore Anche nel Nel saperlo raccontare Era assolutamente Improntato A dare una prospettiva Innanzitutto A chi in questo paese Aveva ancora da viverci E avere le proprie Le proprie esperienze Detto questo Quella è una fase Archiviata Su cui si sono concentrate Anche molto Le opinioni Più che sul governo Anche sulla persona Sulla persona Di Matteo Renzi E non sul contenuto Sul contenuto Del testo Su cui andavamo a votare Ma questo mi consentirà Visto che sia C'è le primarie Che hanno sancito Sostanzialmente Che la stragrande La maggioranza Del partito democratico E degli elettori Del partito democratico Dei simpatizzanti Per dirla più in generale Vuole Matteo Renzi Sia il leader E' un problema Tra virgolette Con cui dovrete Continuare a fare i conti Evidentemente Anche chiaramente Non più nel referendum O almeno Non a stretto giro Ma nelle elezioni Insomma se ci sono Se c'è nella base Del partito democratico Nel popolo del partito democratico Chi non simpatizza Per Matteo Renzi Sarà un problema Che ci sarà ancora Diciamo Questo che è chiaro Che sia lui il segretario E' un problema Di tutte le leadership Avere qualcuno Che la capacità Di chiunque Sappia fare politica In maniera Non dico decente Ma almeno rispettosa Degli elettoristi Sta nel fatto Di considerarli Abbastanza Senz'altro Con tutte le capacità Per poter riconoscere Le offerte politiche Ritengono per loro Migliori Quindi in questo senso L'impegno è tutto A carico nostro Nel senso Che siamo noi Innanzitutto A dover Cercare di convincere Le persone Della bontà Della nostra proposta Evidentemente Se non riusciamo A farlo In alcuni settori E questo però E' tutto da vedere Perché le elezioni Nazionali Ancora non ci sono state Dobbiamo Affrontare il tema Credo però Che sia nella proposta Di Matteo Renzi Durante le primarie Sia in quello Che leggo E quella che è Un po' La nostra impostazione Per come Conduciamo l'attività Politica Da ora in avanti Credo che sia Uno dei temi centrali Che veramente Abbiamo intenzione Di intestarci Bussolino Volevo fare una domanda Su una questione Specifica Perché spesso Ormai Quando si racconta Visto che C'è un vento Proporzionale Poi vedremo Che quella sarà La legge elettorale Cosa uscirà dal Parlamento Ovviamente Parliamo soltanto Con i sé Per adesso Però se soffia Questo vento Effettivamente Il tema delle alleanze Diventa centrale Si comincia a discutere Neanche nel Partito Democratico E non è un caso In molti Insomma Guardano all'ipotesi Di un governo Dato al Movimento 5 Stelle Che possa a sua volta Guardare a una possibile Alleanza con la Lega Nord Ma secondo lei È una cosa Fattibile Possibile La vede all'orizzonte Nel concreto Secondo me Può essere Fattibile Può essere Possibile Perché Secondo me Poi Le divergenze Possono Le divergenze Sicuramente Poi ci sono Nei rapporti Tra gli eventuali Proponenti Perché Sono dell'idea Anche Sono sempre stato Poi favorevole Alle alleanze Specie Poi per esempio Nel mio piccolo Dopo l'esperienza Di Cascina Lì abbiamo tutti imparato Con un po' di coscienza Che l'alleanza E facendo qualche passo indietro Su qualche proposta politica L'alleanza Porti sempre dei benefici La questione Movimento 5 Stelle È particolarmente curiosa Perché Sicuramente Sarebbe una rottura Degli schemi Rispetto a Tutto ciò Che abbiamo vissuto In precedenza Dalla prima Seconda Repubblica A mio avviso E Detto questo È chiaro Che è complicata Al giorno d'oggi Cioè Matteo Salvini Per esempio Ha un'idea chiara E netta Sull'immigrazione E sull'Europa E si scontra Su questi due Macro temi Che essenzialmente Racchiudono La sua attività politica Con il Movimento 5 Stelle Che a mio avviso È ambiguo Cioè Non riesco mai a capire Perché un giorno Magari sei Pro Europa Contro Europa E scusate Magari la sintesi E il giorno dopo Magari Poi Sull'immigrazione Sei favorevole Sei contrario C'è questa problematica Che io magari Poi sulla base In alleanza Appongo le idee E gli ideali Quindi su quelle Poi si baseranno Dice lei E' vero Stare sulle piattaforme Sulle strutture Ma bisogna anche dare Delle risposte concrete Di progettuale Per quanto riguarda Il mondo giovanile Il Movimento 5 Stelle Non è che proprio lanci A parte il reddito Di cittadinanza Però non sarebbe Soltanto rivolto ai giovani Sarebbe rivolto All'intera categoria sociale Non è che abbia Grandi proposte Eppure riesce comunque A tirare Perché? Perché la protesta Paga oggi La protesta Dal punto di vista Diciamo Del breve periodo Sicuramente paga Io credo Il Movimento 5 Stelle Che condivide Il 50% Dei voti In Parlamento Con la Lega Nord Quindi credo Che il Movimento 5 Stelle Si innesti perfettamente In questo percorso Cioè di essere Un movimento Essenzialmente Reazionario Conservatore Populista Che Diciamo Cerca di far pressione E di far E di far crescere Appetiti Sullo scontento Momentaneo Ma che poi Una volta Arrivato alla prova Del governo Non riuscirà Come stiamo vedendo Dalle esperienze Quanto meno amministrative A dare Delle risposte Certo è che Sul breve periodo La polemica Populista Anche in certi casi Paga Non soltanto Sui giovani Ecco io Non credo Che la maggior parte Dei giovani Si lasci Diciamo Irretire Dal Dal fenomeno Populista Diciamo Di più Di quanto non facciano Altre categorie Altre categorie Sociali Credo ci sia In generale Un problema Di narrazione Cioè il Movimento 5 Stelle Ti propone essenzialmente Un futuro In cui tutto andrà male In cui ci saranno Delle cose Che tu non potrai controllare E in cui la politica Non potrà incidere Questo credo sia molto simile Anche ai movimenti di destra Che non solo in Italia Ma un po' in Europa Si propongono Di arrivare al governo E in questo senso Non dandoti prospettive Cerca di Ripiegare Su proposte Che ti appiattiscono Vedi il reddito Di cittadinanza Cioè Togliendoti ogni speranza Ogni prospettiva Ogni possibilità Veramente Di guardare Non dico con fiducia Ma quantomeno Con razionalità Al proprio futuro Ti dà Un contentino Come è Evidentemente Almeno per quanto Mi riguarda Per quella che è La mia opinione Il reddito Di cittadinanza Che però Oltre a quello Oltre a cercare Di tamponare I problemi Che nella narrazione Crea il Movimento 5 Stelle Perché poi Io e il Partito Democratico Non crediamo Che tutto Vada Nella direzione Della distruzione Dei posti di lavoro Nell'assenza Totale Di ordine In questo Chaos Diciamo Che ci vogliono Propagandare I nuovi sovranisti Non soltanto Il Movimento 5 Stelle La Lega Ma anche Le Pen E Trump Questo è il filo Conduttore Un po' di chiunque Tant'è che Su alcuni punti fondamentali Di libertà civili Di diritti Il Movimento 5 Stelle Ha avuto Degli atteggiamenti Ambigui Ecco che diciamo Quanto meno Non lo inseriscono In quel gruppo Di forze Si riconoscono Aperte Democrate E progressiste Non è un caso Che il Movimento 5 Stelle Sia stato finora Nonostante la breve parentesi E poi sia tornato Con lo UKIP E con tutte quelle forze Che in Europa Contrastano La libertà L'apertura La maggior democrazia Il commercio Diciamo Globale Eccetera eccetera Con tutte le difficoltà Che questi Grandi Sconvolgimenti Portano Naturalmente Però La differenza È la politica Ecco su questo Credo il Partito Democratico Possa fare la differenza E la dovrà fare Di questo parleremo Anche nella seconda parte Che è piuttosto importante C'è la proposta Versus la protesta Volevo chiedere però Una cosa Bustolin Chi è il vostro rappresentante Dei giovani padani Insomma In qualche modo Ma al di là Dei giovani padani Insomma Del vostro movimento Nella parte più giovanile Anagraficamente parlando Il vostro rappresentante primario Susanna Ceccardi Per quanto riguarda Per quanto riguarda A livello politico Il vostro delfino Diciamo così Se uno dovesse mandarlo avanti Per quanto riguarda Dal punto di vista Nostro il movimento O non c'è C'è solo Salvini No abbiamo Un nostro coordinatore Federale che si chiama Andrea Crippa E magari poi È più conosciuto Il suo territorio Cioè la Lombardia Rispecchia Per quanto riguarda Noi ragazzi Valori e gli ideali Del movimento Giovanni Padani E della Lega Nord Per cui avanti Andrea Crippa E in Toscana Per quanto riguarda La Toscana C'è per esempio Susanna Ceccardi Come Susanna Ceccardi Poi è chiaro Reduce quindi Da una splendida vittoria E quella più in vista A livello mediatico E quindi anche politico In virtù del suo ruolo Ci sono per fortuna Io dico La coordinatore La Toscana Tantissimi altri Altri individui Chiamiamoli così Discritti Al movimento Giovanni Padani In Toscana Di cui Menevante Di cui sono Assolutamente fiero Per cui Susanna Ceccardi Come potrei citare Andrea Barabotti Che l'abbiamo visto Candidato qua Alle elezioni regionali Come potrei citare Magari L'assessore di Susanna Ceccardi Edoardo Ziello Per il sociale Di cui sono molto fiero Per esempio Perché ha portato L'attenzione Negli enti locali L'utilizzo Della dichiarazione Dei redditi Anziché autocertificata Per gli stranieri Certificata Dalle abbasciate Poi a cascata Gli altri comuni Sono arrivati Però Quanto meno Nell'immediato Ha portato A grossi risultati Ma glielo chiedevo Perché ora 30 secondi Perché insomma La Lega Nord Come diceva lei Era la Lega Nord Adesso si sta Strutturando a livello Nazionale Quindi evidentemente Va costruito Questo fermento Questo fermento giovanile O no Del partito No no Sono assolutamente D'accordo Anche perché poi La parte bella Chiamo così Della politica giovanile È quella di poter Muoversi anche Senza troppa Questo quantomeno È il mio modo di agire Senza troppa Paura Ho timore Di quello che possono essere Le conseguenze elettorali Io non mi muovo sul campo Del numero dei voti Che prende il mio partito Ma mi muovo sul campo Delle mie idee Delle mie emozioni E di quello che provo Andando a contatto Con le persone Ed è quello che facciamo Insieme a tutti gli altri ragazzi La cosa bella È vedendo poi i risultati Appunto Susanna Ceccardi E spero tantissimi altri In Toscana Il prossimo periodo Ci fermiamo qui per ora Tra 5 minuti Torniamo Continuiamo a parlare Di questo Insomma Entriremo anche Un po' su un paio Di questioni Parecchio importanti Alcune in discussione adesso C'è ad esempio Il tema della legittima difesa È un tema su cui Anche il Partito Democratico Insomma Sta evidentemente Rivolgendo la sua attenzione In modo diverso Anche rispetto a quanto Veniva fatto prima È sintomo Che è un tema molto sentito Ma oltre a questo Insomma ci sono anche Un altro paio di questioni Alcune anche nostre locali Come ad esempio Questa costruzione Della moschea a Firenze Non si sa dove si farà Ma evidentemente Da qualche parte La si vuole fare Vedremo E quali saranno le zone E quali saranno Insomma poi Le proposte Dei vari amministratori Della zona soprattutto Ovviamente Del Partito Democratico Ci fermiamo per 5 minuti Poi torniamo in studio Ben tornati in studio Allora stiamo parlando Dei giovani della politica Tra poco parleremo E torneremo su questo tema Ma prima volevo fare Un appunto su due Tre questioni La prima volevo partire Da Bussolin Per chiedergli una cosa Perché Salvini Si è sostanzialmente Immolato Insieme a Quel magistrato Del sud Che sostanzialmente Ha Insomma Ipotizzato Dei legami Diciamo Malavitosi Tra le ONG E l'arrivo Dei barconi Nel nostro paese Non lo toccate Sostanzialmente è stato il messaggio Di Matteo Salvini Però c'è stata un po' Nellevata di scudi Diciamo la verità Un po' in tutta Italia Su questo Sia da parte Delle organizzazioni Che da parte Dei partiti rivali Alla Lega Nord Lei difende Insomma Quella posizione Salvini Difende la posizione Salvini Come difende L'operato Del magistrato Di cui stiamo parlando Perché Altro non sta chiedendo Che gli strumenti Per poter Proseguire la sua indagine E Per esempio Poter fare uso Delle intercettazioni telefoniche Quindi non è nuovo Neanche Matteo Dire che Molto probabilmente Lo strumento Delle intercettazioni È molto più utile In questo caso È molto Quindi Più utile Neanche per le tasche dei cittadini Non le tasche Scusate Magari anche il pensiero Per i cittadini Nei confronti Del proprio Stato Di cui In dove risiedono Anziché per esempio Le intercettazioni Che sono andate avanti per anni Per Berlusconi E per sapere Chi andasse a Ercore Al Festiccioli Di cui Quindi onestamente Non ci interessa Quindi ecco Da questo punto di vista Siccome anche L'ordine dei magistrati Non ha ravvisato Nessuna presa di posizione Estrema Da parte del magistrato Difatti Cioè non viene nemmeno Ricusato Cioè È partita un'indagine È partita un'indagine Esatto Quanto meno Le premesse iniziali Non sono Gravi Da quel punto di vista Benvenga Quindi un magistrato Che esce fuori dal coro E dice le cose come stanno Questa è la nostra posizione Perini Sì Io credo che sul tema Delle ONG Si debba E si possa fare chiarezza Innanzitutto Mi lascia perplesso Che un Che un magistrato Diciamo Intraprenda In solitaria Una battaglia Mediatica Ma non perché io Anzi perché io Ho estremo rispetto Della magistratura Proprio perché ho estremo Rispetto per la magistratura Credo veramente Che il compito Dei magistrati Non sia Far parte In maniera Attiva Della polemica politica Perché così è Perché questa è di fatto Una polemica politica Tra l'altro citando Prove Che non sono prove Cioè citando elementi Che lui Stesso dice Non essere rilevanti Ai fini delle indagini Perché non può utilizzarli Ora Questo per veramente Fare chiarezza Nel dibattito Se ci sono delle prove È giusto che La magistratura Faccia il suo corso Siccome I report di Frontex Che è l'agenzia Per le frontiere Non fanno altro Che Non accusano Le ONG Ma semmai Parlano di Un'assenza Completa Di coordinamento Fra l'attività Delle ONG E Frontex Se la guardia costiera Come oggi Da numerosissime Dichiarazioni Del controammiraglio Di numerosissime persone Che fanno parte Della guardia costiera Dice che le ONG Sostanzialmente Vanno ad integrare Un lavoro Che prima era Di imbarcazioni commerciali Che quindi garantiscono Una maggiore copertura Di quello Che è il salvataggio In mare Che è un principio Di diritto internazionale Largamente ratificato Da numerosissime Convenzioni Internazionali Ecco Se noi prendiamo Questo quadro Ora onestamente Fare una polemica Sulle ONG Tra l'altro Citando report Dei servizi segreti Che lo stesso Presidente del Copasir Che è della Lega Nord Ha detto Non esistere Almeno Allo stato attuale Ecco Mi sembra veramente Che si cerchi Di inquinare Un dibattito Che invece è serio Perché si tratta Di salvare vite umane È serissimo Soltanto per fare Spiccio la propaganda politica Con questo Nessuno vuol dire Che tutte le operazioni Sono completamente corrette Io questo non lo so Credo non lo sappia Neanche il magistrato E se il magistrato E se il magistrato Ha degli elementi Di rilevanza Deve agire In tal senso Ma veramente Rispettando Quelle che sono Le garanzie processuali Quindi deve avere Banalmente delle prove Non si possono fare Accuse E relazioni Verso un lavoro Che ricordiamolo Integra Un lavoro Essenziale Delle autorità europee E delle autorità italiane E ci permette Alla fine Di salvare delle vite Tra l'altro Andando verso l'estate Sarà un tema Che come sappiamo Purtroppo Ciclinicamente Quando si va verso l'estate Aumentano Sostanzialmente L'arrivo Di queste persone Quindi evidentemente È un tema Che tra poco Avrà anche una rilevanza Numerica Piuttosto importante Ma già insomma In questi mesi Non che sia stato da meno Ovviamente Altra questione Vi chiedo di essere rapidissima Stavolta parto da Perini Così facciamo all'incontrario Come se fosse un confronto Diciamo elettorale Il tema Della difesa Diciamo Dell'autodifesa In casa propria È un tema Molto dibattuto Su questo I giornali Dicono Per Renzi Si dovrebbe andare Avanti sulla linea Più dura Sostanzialmente Poi è passata Anche quella Che era una proposta Portata avanti Anche da Ermini Se non sbaglio Sulla legittima difesa Insomma È un tema Molto sentito Dalle persone In generale Oggi più di prima Dove sta il limite Diciamo Tra allarmarsi Da tenersi in casa Un'arma E poter sparare E invece la coscienza Diciamo di ognuno No? Allora sì Innanzitutto Questa è naturalmente La mia opinione Personale Credo che Non ci si possa Di scostare E infatti Anche gli emendamenti Vanno in questa direzione Da quella Che è l'attuale legge Che tra l'altro È una legge Se non sbaglio Voluta dal centro-destra Quindi credo Non ci si debba Scostare da quella Infatti Leggo che gli emendamenti Vanno soltanto A meglio specificare E a integrare Il testo della legge Il testo della legge Già esistente Credo che il limite Stia nella proporzionalità La proporzionalità E quindi Il confine Fra proporzione E sproporzione Dell'atto Di difesa Rimane Ed è questo L'elemento centrale E qui È ovvio Che movimenti Come il movimento Della Lega Nord Ma anche E questo Onestamente Mi stupisce Perché Berlusconi Si vanta molto Di avere una profonda Cultura liberale Garantista Su questo Io faccio fatica A vedere Come l'utilizzo Indiscriminato Di armi E l'assenza Del principio Della proporzione Per la legittima difesa Possa In questo caso Essere Veramente Un elemento Di garanzia O almeno Essere inserito Non lo so Nel contesto Di una qualsiasi Legge europea Perché poi Naturalmente Gli Stati Uniti Sono un'altra cosa Ma per quello Che riguarda Le garanzie Del nostro sistema Giuridico Almeno a livello europeo Ecco La nostra legge Credo Almeno quella In discussione Le modifiche A quella in discussione Credo Si avvicinino In parte A quello Che è L'ordinamento Francese Quindi si rimane Più o meno Nel solco Della tradizione europea L'importante Questo io lo sottolineo Perché io personalmente Apprezzavo Già la prima versione Cioè la legge Attualmente in vigore Se si deve intervenire Su questo tema È bene intervenire Tenendo conto Come è stato fatto Da Ermini E come è stato fatto In generale Dal Partito Democratico E da Alternativa Popolare Della proporzionalità Noi Almeno per quanto riguarda Il Partito Democratico Non siamo Tra quelli Che credono Che si possa Indiscriminatamente Far uso delle armi Per difendersi Anche quando c'è Sproporzione Fra la minaccia E la reazione eventuale Bussolino Dio ce ne scampi Dio ce ne scampi Poi dall'uso Delle armi Indiscriminato Per tutti i cittadini Infatti c'è uno Stato E si pretende Che sia lo Stato stesso Poi a difenderti Ma chiusa questa breve parentesi Dio mio pensiero Io sono anche dell'idea Che nello specifico Poi senza utilizzare Linguaggio giuridico Per chi ci ascolterà a casa Ho trovato abbastanza ambigua Per esempio La risoluzione impiegata Nella difesa Quindi ha consentita Mettiamo così Per il cittadino Che trova violata La propria proprietà privata Di notte Quella postilla È abbastanza curiosa Diciamo Nella procedura Che sta andando avanti È l'argomento Magari da una parte Ironizzato E dall'altra parte Anche più criticato Nello specifico Mettere invece Per quanto attiene Al principio della proporzione Secondo me Ecco Il discorso generale Si scontra qua Perché è difficile Attenersi a un principio Della proporzione Quando per esempio L'illecito è in atto Io faccio un esempio Mi entra un ladro in casa Io non posso sapere Al buio Magari se è armato Non posso sapere Con cosa è armato Si deve lasciare Quindi la possibilità A chi sente violata La propria proprietà privata A chi sente in pericolo La propria vita E quella dei propri cari Di difendersi All'infuori Del principio di proporzione Quindi Dicevano bene I giornali oggi La nostra posizione Mira maggiormente A un concetto Di impunibilità Laddove È chiaro Ci sia La giustificazione Di punibilità Quindi Di chi Si è dovuto difendere Si poi viene indagato Cioè questa cosa Però per chiarezza Va fatta Perché se no Ogni volta Che succede una cosa del genere C'è il leader politico di turno Che dice Vergogna Vergogna Perché indagano Quello che si è difeso Lo indagano Perché Questo lo so bene L'avviso di garanzia Serve a garanzia Di innanzitutto Di chi è indagato Quindi non significa Che sia colpevole Che se no Da quello non c'è scampo Cioè comunque In ogni caso Verrà indagato Per accertare Se ha commesso O non ha commesso A questo Mussolini Insomma che studia Legge No 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 Ma questo riguarda La polemia politica Perché se no Poi si strumentalizza Quello che è l'esistenza Ormai oggi Ormai oggi sull'avviso di garanzia Si fa la polemica Prima su quelli Che sulle condanne Volevo chiedervi una cosa Però molto semplice Molto schietta Tutti e due Lei se la prenderebbe Una pistola in casa Ce l'ha intanto Magari ce l'ha già Ce l'ha No non ce l'ho E non la prenderei Ok Non ce l'ho E non la prenderei Volevo chiedere a Pierini Velocissimo però Sul tema dell'alleanza Perché l'ho chiesto a Bossolini Volevo chiederla anche Per quanto riguarda Il Partito Democratico Forse l'incognita maggiore Sarà curioso vedere Se la Lega Nord E il Movimento 5 Stelle Potranno avere Delle elementi in comune Ma anche capire Dove andrà il Partito Democratico Se guarderà più a destra Verso Berlusconi E più a sinistra Verso Pisapia E beh questo dipende Molto innanzitutto Dal sistema elettorale Che avremo Quando andremo a votare Andremo a votare E questo è già Il primo elemento Poi l'altra cosa È che Quello che proponeva Renzi Nella mozione È che prima si parte Da quelle che sono Le nostre proposte E quindi prima Diciamo quali sono Le posizioni del Partito Democratico Su tutti i principali temi Che poi andiamo a discutere Con la gente Dopodiché Se qualcuno Sta al tavolo con noi Su quelle posizioni È un altro discorso Il PD però rimane Per quanto mi riguarda A vocazione maggioritaria Cioè il nostro obiettivo Sarà sempre quello di Provare a rappresentare La maggioranza relativa Il più possibile La maggioranza relativa Degli elettori Questo non vuol dire Escludere A prescindere Dalle alleanze Però capisci bene Che io non posso Fare un'alleanza Con chi ha Per tre anni Osteggiato Le politiche Del governo Renzi E che è uscito Dal Partito Democratico Mancando di rispetto Non a Marco Pierini Che in quel partito E in quella tradizione Ci sta Da quando aveva 16 anni Quindi da 5 anni Ma da tutte quelle persone Che quel partito L'hanno costruito Mettendo in discussione Anni e anni Di militanza politica Cioè c'è anche un limite In cui c'è bisogno Di rispettare La nostra comunità Credo che sia quello Il limite da metterci Per le alleanze E soprattutto Poi bisognerà vedere Davvero come Andremo al voto Perché se abbiamo Un proporzionale puro Le alleanze Si fanno dopo Se abbiamo Un premio Alla coalizione È un'altra cosa Se abbiamo i collegi Cambia completamente Lo scenario È chiaro Assolutamente così Vi chiedo In un minuto A testa Di descrivermi Quali possono essere Le strategie Dei vostri partiti Sull'utilizzo Dei social network Perché è innegabile Che i giovani Stiano lì Guardino lì C'è chi è più forte C'è chi è meno forte Il Movimento 5 Stelle Oggi ha una leadership In questo senso Però Renzi Su questo ha già puntato Piuttosto l'attenzione Partiamo da Bussolini E poi Pierini Prego Sono dell'idea Che il social network Poi per quanto riguarda Per esempio Una possibile campagna elettorale Delle politiche Verrà utilizzato In prima persona Appunto da Matteo Salvini Il quale ha Per esempio Uno staff Fatto di ragazzi giovani Che lo seguono E possono dargli Qualche consiglio Magari appunto Da chi appartiene A una generazione diversa Ma non è nemmeno così Poi tanto vecchio Matteo Salvini Devo sempre precisare Il cognome Può essere un cognome Basta quindi rivedere L'approccio Anche utilizzato In precedenza Da Matteo Salvini C'è un linguaggio Non dissimile Per esempio Da quello di Donald Trump E non dissimile Da quello di altri Colleghi Chiamiamoli così Politici A livello internazionale Cioè Quello della schiettezza E dell'essere diretti Alla fine Una caratteristica Della personalità Anche di Matteo Salvini Da punto di vista La persona Non verrà cambiata Per quanto riguarda Il sistema Invece struttura Del partito E struttura Del movimento giovanile E' chiaro che Noi quantomeno Avremo una visione Più Astratta Della politica Quindi Io personalmente Anziché attenermi Per esempio Le vongole Che ci dice l'Europa Che dimensioni devono essere E' chiaro che voglio parlare Come ho detto prima Di lavoro Di ciò che mi piace Voglio parlare Di futuro Paradossalmente Lo so che sembro Il partito democratico Però Di futuro E anche Quindi di cosa Noi giovani Ci dobbiamo aspettare Da questo futuro Da questa Italia Che è casa nostra Pianini Sì Allora Penso innanzitutto Che molto derivi Dalla natura Della leadership Quindi anche Da quanto Matteo Renzi Poi Sarà in grado Come credo Di intercettarlo Il voto giovanile Anche diciamo Con Con messaggi diretti Al mondo giovanile Cioè Parlando in maniera Specifica E mirata A tutte quelle persone Che hanno Dei problemi Delle sfide Delle prospettive Sono totalmente diversi Sono i miei Compagni di università Erano i miei compagni Di scuola Quindi Allora ci parla Insomma i suoi amici Che cosa le dicono Per quanto riguarda Il partito democratico Cos'è che non gli piace Ora io non so Se sarà che sto in Toscana Sarà che sto In un territorio felice Però la maggior parte Dei miei amici Non volutamente Tra l'altro Perché Grazie a Dio Non li scelgo Per l'appartenenza politica Ma la maggior parte Dei miei amici Vede Con curiosità All'esperienza di Renzi Perché è l'unico Tuttora Che innanzitutto Ha svecchiato La classe dirigente L'unico Che finora lo ha fatto E l'ha portata al governo Può essere stata meno Più brava Eccetera Ma Ha veramente Cambiato I volti E i contenuti Di vent'anni Di vent'anni Di politica E Soprattutto però Ritornando ora Alla domanda iniziale I social network Devono essere utilizzati Paradossalmente In maniera uguale E contraria Però al movimento 5 stelle E' chiaro che bisogna esserci E' chiaro che ognuno Si deve sentire Diciamo Ognuno Intendo Ogni iscritto Del partito democratico Deve sentirsi Partecipe In questo processo Noi dobbiamo Mandare un messaggio Che però E' diametralmente Opposto Cioè dobbiamo Riuscire E capisco che La strada è Infinitamente più stretta Però dobbiamo Riuscire a dare Messaggi di qualità Cioè proposte Politiche serie E credibili In forme Nuove Questo siccome C'è riuscito Nella prima fase Non credo Che necessiti Di grandi formule O grandi Nuove trasformazioni Della struttura Del partito democratico Cioè almeno Per quanto riguarda La campagna Serve veramente Che tutti noi Ci impegniamo Come piccoli Recettori Delle problematiche Ma anche Delle proposte E sui social Ci stiamo Naturalmente Se ci dobbiamo stare Io dico E questa è una cosa Che penso Se ci dobbiamo stare Con l'assenza Di qualità Che caratterizza Altri partiti Io dico no Meglio non stare Ci dice lei Va bene Ci fermiamo qui Abbiamo esaurito il nostro tempo Grazie mille Marco Pierini Per essere stato con noi Grazie a voi Buonasera Buonasera anche ai nostri telespettatori Che ci hanno seguito da casa Telegram termina qui Ci vediamo domani Buonasera a tutti Buonasera a tutti